Musica Zucche, streghe e mostri in ragnatele, anche Arezzo ha festeggiato la notte di Halloween, la serata più terrificante dell'anno. Le vie del centro storico sono state invase da grandi e piccini mascherati per l'occasione e quindi via sangue, ragnatele, barrucche, trucchi mostruosi e soprattutto fantasia per dar vita così alla notte delle streghe e portare un po' di atmosfera horror nel centro di Arezzo. Ovviamente nella notte di Halloween non poteva mancare anche quel briciolo di dolcezza con il tradizionale dolcetto scherzetto, tradizione che ormai da oltroceano sta prendendo sempre più piede anche nella nostra città.